Ci troviamo a Pisogne, siamo alla Iseo Serrature, 50 anni di storia, azienda tecnologica nelle Serrature e siamo con Facchinetti Evaristo. Facchinetti Evaristo è titolare di questa azienda, un'azienda che ormai è in tutto il mondo, un'azienda che a livello tecnologico è veramente di tutto rispetto. In 50 anni abbiamo fatto un bel percorso, tanto è vero che siamo partiti nel 69, fondata da mio padre, attualmente abbiamo una ventina di persone, attualmente siamo in 1300 con produzioni anche all'estero, in particolare in Francia, in Germania, in Spagna, anche in Italia, oltre che a Pisogne, siamo anche a Como, siamo a Modena. Un'azienda perciò multinazionale, un'azienda che nel settore è leader ed è per quello che il gruppo sportivo Iseo Serrature, Rime e Carnovali ha scelto questa location splendida per realizzare il servizio fotovideo. E questo è un orgoglio per lei che ormai da molti anni con lo zio Betinsoli Giacinto che avete un po' inventato questa storia. A cui va il mio pensiero, che ci ha avvicinato ancora di più al mondo del ciclismo, perché tifosi lo siamo sempre stati. Abbiamo cominciato qualche anno fa con lo sponsor del Giro d'Italia per due anni di seguito, che ci ha dato diverse soddisfazioni. Da lì abbiamo fatto un passo in più e adesso siamo ben orgogliosi di sponsorizzare questo team. Una squadra che ha fatto già tanta storia, perché con il vostro marchio ha vinto corsi importanti, si è messa veramente in luce anche nelle corse a tappe Giri d'Italia per Elite Under 23. Perciò quando il marchio di un'azienda va in giro con questi ragazzi ventenni è una soddisfazione. Senz'altro una soddisfazione, un orgoglio e speriamo di averne altre, perché abbiamo intenzione che ci siamo di restarci. Bellissimo, bella idea questa. Evaristo vuol fare un augurio a questi ragazzi e a questa squadra? Il mio augurio è che continuino come hanno cominciato. Vedo che sono entusiasti. Penso che se arrivano anche i risultati lo saranno ancora di più. È bello vedere questi ragazzi a vent'anni a fare questi sacrifici. Saranno poi gli uomini nel futuro, gli imprenditori nel futuro? Sicuramente sì, perché i sacrifici ne fanno parecchi, qualche delusione ce l'hanno, però c'è anche la soddisfazione quando si vince da una carica. Signor Facchinetti, grazie mille, grazie infinito. Grazie, arrivederci. E continuiamo il servizio qui all'Aiseo Serature a Pisogna, 50 anni di storia. Siamo con il direttore sportivo Daniele Calosso. Daniele Calosso, 13 corridori a disposizione. La stagione è già iniziata e vi siete già messi in luce. Sì, abbiamo nel 2019 deciso di fare questo grosso passo, questo grosso investimento di questo progetto Continental. Dobbiamo ringraziare comunque l'Aiseo Serature e i nostri sponsor più vicini come Larime e Carnovali che ci hanno permesso di fare questo salto di qualità. Coincidenza, l'Aiseo Serature festeggi 50 anni. Noi quest'anno facciamo i 20 anni di attività, quindi sicuramente era un modo per ringraziare la vicinanza della famiglia dell'Aiseo Serature di questi lunghi anni passati insieme. Lunghi anni passati insieme, ci vuoi anche il nome dei ragazzi che gareggeranno quest'anno in corso veramente di importanti, di alta caratura? Allora, abbiamo Mattia Baldo, Bertone Filippo, Corti Stefano, Ferrari Andrea, il primo anno la Manna Pasquale, Marini Alberto, Rinaldi Nicolas, Sartori Mirco che è l'unico ragazzo elite, Spadini Enrico l'altro primo anno, Tabarelli Leonardo, Zambelli Samuele, Zandomenighi Matteo e Zandomenighi Simone. Dobbiamo dire che voi dovete andare a duellare o comunque a provare le grandi emozioni con i professionisti. Sì, abbiamo cominciato con la gara dell'Aigueglia e per noi è importante far fare esperienze ai nostri ragazzi, farli correre nel mondo professionistico con squadre World Tour, con squadre professional per fare quell'esperienza che comunque serve per farli crescere sia dal punto di vista mentale che fisico. Ovviamente è un calendario che deve andare in concomitanza con quello direttantistico, inizieremo a fare delle trasferte all'estero nel mese di aprile andando a correre in Polonia, proseguiremo per Albania, avremo delle trasferte in Francia. Diciamo che è un calendario ricco, sono più di 100 giornate, un quarto di queste giornate di corse sono quei professionisti, quindi sicuramente è un bel impegno. Avete passisti, velocisti, scalatori, dei nomi di ragazzi che sicuramente si metteranno in luce anche nelle corse a tappe. Ma allora con Zandomenighi e Simone non nascondiamo che stiamo preparando un po' quello che è l'avvenimento un po' importante a cui puntiamo che è il Giro Under 23. Anche quest'anno arriveremo in terra bresciana sul Maniva quindi sicuramente ci terremo a far bene, passeremo vicino alle esiosserrature quindi sarà un motivo in più per cercare di spronare i ragazzi. Con lui si ragiona e si sta ragionando appunto su un discorso di corse a tappe. Abbiamo integrato dei ragazzi buoni con un po' di esperienza come Rinaldi, Nicolás, Bertone Filippo e lo stesso Mirko Sertori che è il primo anno Elite che possono comunque aiutare in questo caso qua Simone e Zandomenighi. E poi abbiamo un reparto di velocisti, Zambelli, Samuele, Stefano Corti. Vediamo la stagione iniziata adesso, non siamo partiti male, abbiamo avuto un po' di sfortuna alla San Geo con Ferrari che all'ultimo giro ha dovuto desistere per un problema meccanico. Siamo riusciti a far terzo comunque con Zambelli quindi sicuramente per noi è un buon inizio di stagione. Qui sentivamo gente di grande entusiasmo, fra questi un Marco Cattaneo che ha corso in bicicletta, che è stato un grande, ha vinto in liberazione. Praticamente lui è inserito o comunque è qui a dare entusiasmo a voi? Molto, molto. Con Cattaneo c'è un grandissimo rapporto di amicizia, c'è un grandissimo rapporto di fiducia. Lui lavora per la Fiam, che è comunque questa azienda collegata alle isiosserrature. Diciamo che è un po' anche il perno che ha messo in comunione noi con altre situazioni. Quindi cerchiamo di coinvolgere le più persone possibili per fare le cose fatte bene, per far crescere questo progetto che è all'inizio. E vedremo, sperando nei prossimi anni, di riuscire a costruire qualcosa di importante. La famiglia Facchinetti guidata da Evaristo è vicino a questa iniziativa con l'entusiasmo giusto? Molto, molto. Noi eravamo molto legati allo zio di Facchinetti, che è il nostro Giacinto Bettinsoli. È stato il nostro presidente storico, è venuto a mancare l'anno scorso. Siamo ancora tutti legati sentimentalmente a lui, infatti è un po' di emozione, mi prende sempre quando mi viene a parlare del Cinto. Lui era profondamente innamorato di questa squadra, voleva tanto bene i suoi ragazzi, i suoi corridori, non gli ha mai fatto mancare niente. E questo passo forse è anche un ringraziamento nei suoi confronti. Questi vent'anni, lui ha fatto 19 anni di presidente, quindi questi vent'anni sono un ringraziamento a questa eterna persona che comunque vive nei nostri cuori, nei nostri pensieri quotidianamente. Daniele, ti vediamo tranquillo e sereno e parlatore! Molto, molto. Dai, alla fine è importante trasmettere sicurezza e tranquillità ai ragazzi, anche perché in un progetto nuovo, come è normale che sia, c'è sempre un po' di tensione, c'è sempre un po' di... Però le cose le stiamo facendo bene, stiamo investendo molto su questi ragazzi, su questa squadra. Abbiamo sicuramente un percorso duro che ci aspetta, ma siamo pronti a costruire qualcosa veramente di molto, molto importante. Presidente della Iseo Serrature Rime Carnovali è Maria Regosa, marica per noi amici. Prendi in mano il timone, la presidenza di questo sodalizio e ricordo va subito a Giacinto Bettinzoli, lo zio di tutti, il papà di tutti. Sì, purtroppo è mancato qualche mese fa, così improvvisamente, e sarebbe stato un grosso dispiacere per lui sapere di dover interrompere tutto questo percorso che abbiamo fatto in vent'anni assieme, quindi mi è toccato anche prendere un po' questa decisione e sono molto contenta comunque sperando di portare avanti tutto quello che aveva in mente anche lui per il futuro, per i giovani e per il proseguio di questa società che dura da vent'anni, grazie soprattutto a lui, a tutta la sua volontà. Marica, però a braccetto con Iseo Serrature la famiglia Facchinetti, Evaristo Facchinetti, non solo ma anche Carnovali, Rime, praticamente queste aziende sono vicine a voi da sempre, giustamente però, con l'entusiasmo giusto, con l'espressione giusta. Sì, sono tutte ditte bresciane e siamo felicissimi davvero di avere coinvolto questi nomi e speriamo davvero ci possano sostenere a lungo, loro so che sono molto entusiasti di questa nuova avventura anche nella Continental, hanno abbracciato il progetto e speriamo davvero di avere i risultati insomma che fanno ben sperare, ecco, perché il gruppo comunque c'è, ecco, c'è un bel gruppo. Cosa chiedi a questi ragazzi? Ecco, a questi ragazzi chiediamo davvero che quest'anno gli abbiamo anche dato questa possibilità, quindi avranno anche qualche corsa assieme ai professionisti da fare, perciò per loro è un'esperienza importante, è che non ci chiedono il numero di vittorie, e non è che abbiamo questa, né gli sponsor né noi, l'importante è che si comportino bene e speriamo davvero per il loro futuro. Si parlava di Marco Cattano ed eccolo qua, una storia del ciclismo, lui è stato un grande fra i dilettanti, ancora fra i professionisti e poi è diventato imprenditore ed ora è qua a coccolarsi questa formazione Continental, 13 ragazzi proiettati alle emozioni che hai provato te alcuni anni fa. È bello sempre vedere ragazzi giovani che vogliono, che hanno obiettivi da raggiungere e che vogliono perseguirli, io ho collaborato con Iseo da 15 anni e ho sempre trovato un'azienda, ho trovato un'azienda che ha sempre voluto investire anche in questi giovani qui, spero proprio che qualcuno di questi possa fare qualcosa di buono. Una squadra, dicevamo, proiettata, la famiglia Facchinetti, Evaristo, trascinatore di tutto questo movimento, questo progetto. Cattano, vuoi dire la tua carriera? Brevemente, cosa hai fatto? Ho fatto qualche anno da dilettante, arrivando a fare l'Olimpiadi a Mosca e poi professionista, però una carriera molto breve, soltanto di tre anni, prima con Francesco Moser e poi nella squadra che faceva più pista che strada. E cosa hai imparato dal ciclismo? Tantissimo, ho imparato molto, mi ha insegnato a vivere la vita in un certo modo e capire soprattutto, arrivare agli obiettivi con non si regala niente a nessuno e quindi arrivare con il sacrificio, con la benegazione e con la costanza. Che ricordo è Roma? Cosa ti viene in mente? Che corsa ti viene in mente? In liberazione, il mondiale di quello che chiamavano, che lo chiamano ancora il mondiale di primavera, sì, è stato bello. Prima una volta era russi, arrivavano a tutto il mondo e già c'era veramente... È stato bello quell'anno lì perché è l'anno olimpico e ancora adesso mi viene un po' i brividi di aver messo alle spalle tutti i quali che poi dopo a luglio... Hai vinto per il distacco? Sì, da solo, sì. E beh, insomma, complimenti Marco, ti troviamo veramente in forma, grazie mille, ciao! A presto, ciao!